L'epidemia di Covid non arresta la marcia in molti paesi europei e il Belgio, dove l'incidenza è molto alta, ha messo a punto nuove misure per contenere il contagio. Tra le principali iniziative è la chiusura delle scuole materne primarie anticipata di una settimana rispetto al calendario delle vacanze natalizie. Nelle scuole secondarie si passa all'insegnamento ibrido con solo il 50% degli alunni in presenza. La mascherina a partire da lunedì sarà obbligatoria, la indosseranno anche i bambini dai sei anni in su. Dalla prossima settimana gli eventi pubblici negli spazi chiusi saranno limitati a 200 persone. Il numero dei contagi è molto alto, ma allo stesso tempo vediamo che il numero dei morti è inferiore rispetto ad altri paesi, con lo stesso numero di infezioni. E questo per una ragione, la percentuale di vaccinati è particolarmente alta qui. Vorrei ringraziare ancora una volta gli 8 milioni di persone che si sono vaccinate. Il virologo Mark Van Ransd ci ha detto che gli effetti di Omicron sembrano essere leggeri per chi ha fatto il vaccino. Beh, se non si è vaccinati, è ovvio che prima o poi si contrarrà la malattia. Potreste farla franca per qualche mese, ma prima o poi vi ammalerete, a meno che non viviate sotto una campana di vetro. E con la variante Omicron sarà inevitabile. Da vaccinato invece i sintomi sono lievi. Una cosa è certa, il vaccino serve, per cui l'unico consiglio che posso dare è questo, vaccinatevi. Solo nelle prossime settimane conosceremo l'impatto reale di Omicron e l'effetto del vaccino e delle cure messe a punto in questi ultimi tempi.